passiamo all'antiscientifico cerchiamo di capire perché con i due esperti di dati sì, eccoci, buonasera Davide Tosi vieni considerato un informatico grande analista di big data di curve, di contagi mi hai analizzato diversi in questi mesi sei riuscito anche a predire diverse situazioni in Lombardia le tue curve dimostrano che la chiusura o l'apertura delle scuole incide sulla contagiosità sono le scuole dei driver del virus secondo i tuoi studi noi ci abbiamo provato già ad agosto a capire quello che poteva essere l'impatto della riapertura delle scuole poi a metà settembre il 25 agosto abbiamo pubblicato un modello predittivo che cercava di predire appunto quello che sarebbe stata la seconda ondata a partire dai dati che avevamo il 25 di agosto la maggioranza dei nostri luminari andava in televisione a dire che i numeri erano prossimi allo zero che addirittura a giugno si diceva che tutto era risolto dal punto di vista numerico pandemico eccetera mentre noi il 25 di luglio abbiamo acceso il primo campanello che diceva attenzione che ci sono dei trend che stanno cambiando a metà agosto abbiamo ribadito la cosa il 25 di agosto abbiamo prodotto questo modello predittivo che diceva che la seconda ondata era praticamente iniziata che avrebbe raggiunto un picco relativo intorno al 7-8 di settembre dove poi avremmo avuto una lieve flessione e al 28 di settembre quindi due settimane dopo la riapertura delle scuole avremmo avuto l'esplosione esponenziale dei contagi se andate a prendere qualsiasi curva poi di quello che è successo nella realtà questo è stato l'andamento e il modello che avevamo prodotto si basava proprio sul fatto che consideravamo la scuola driver di contagio non perché la colpa è dei ragazzi o delle insegnanti anzi loro sono prodigati poi nel cercare in qualche modo di mettere in sicurezza l'ambiente scolastico ma perché tutti gli studi dicono che gli ambienti chiusi molto condensati quindi con un gran numero di popolazione eccetera poco areati e tutto come i nostri ambienti scolastici che non sono dei più moderni in Europa portano ad aver contagio soprattutto perché gli ambienti sono occupati da dei ragazzini io ho due bimbi e vedo come si comportano anche dopo un anno che comunque io provo a ripetere l'attenzione alla mascherina non va presa in questo modo dopo un anno comunque sono dei bimbi e la mascherina la toccano ancora nel modo sbagliato quindi pensare che la scuola sia un ambiente sicuro by definition è sbagliato ci sono un sacco di lavori scientifici che poi abbiamo usato anche per il modello predittivo che abbiamo pubblicato l'8 dicembre e che anche lì vedeva e considerava la chiusura della scuola e delle attività lavorative e produttive delle vacanze natalizie come elemento che avrebbe fortemente rallentato il contagio e ovviamente così è stato basandolo su degli studi che sono disponibili ci sono degli studi di Lancet di Nature e di Science che dicono che i non-pharmaceutical interventions più impattanti sulla riduzione dell'indice RT quindi sulla riduzione del contagio e quindi sulla velocità della riduzione del contagio sono al secondo posto la chiusura degli ambienti scolastici ci sono poi anche a livello europeo delle analisi che sono state fatte per esempio in Francia la Saint-Public-France ha dichiarato che la scuola e l'università sono indicati come primo fattore di focolai attivi in UK la scuola primaria e secondaria sono state dall'NHS del Test and Trace UK sono state dichiarate come terzo elemento di segnalazione di contagio in Germania di recente la Merkel ha dichiarato che il suo ministro ha dichiarato che la scuola è un ambiente ad alto rischio e quindi con il lockdown che è in atto in Germania si è chiusa completamente la scuola in ogni ordine grado in Austria è uscito uno studio qualche giorno fa ci dice che un caso su tre quattro vengono persi dall'attività di screening e di testing all'interno delle mura scolastiche figurarsi in Italia dove non è stata fatta un'attività di testing e tracing opportuno o meglio è stata fatta all'inizio poi quando si è visto che troppe classi andavano in quarantena allora si è lasciata un po' la maglia sull'attività di tracing e testing quindi questo per dire che non è che lo dice Davide Tosi lo dicono gli studi pubblicati su riviste scientifiche lo dicono i massimi esperti o i massimi organi a livello europeo ci dicono che la situazione delle scuole non è sicura si può intervenire come è stato fatto in Francia in Germania in UK per renderle sicure ma usare l'alibi di dire che le scuole sono sicure per definizione è un alibi per non intervenire poi strutturalmente e seriamente sull'ambiente scolastico poi come dicevi tu Irene i primi di dicembre sono stati rilasciati questi famosi dati del MIUR il MIUR parlava di circa 65.000 casi identificati nella finestra temporale 14 settembre 30 ottobre e parliamo solo di scuola primaria e secondaria di primo grado perché le superiori erano comunque a distanza parliamo di 65.000 casi che sono estremamente drogati a ribasso perché non tutte le scuole italiane hanno partecipato a questa attività di pubblicazione dei dati in formato open e soprattutto perché appunto l'attività di testing e tracing non è stata fatta in modo approfondito a livello scolastico e ulteriore elemento è che il 75% degli under 18 è asintomatico quindi vuol dire che quelli si perdono nell'attività di tracing e questi però portano il contagio all'interno delle mura familiari allora tutti questi dati ci dicevano che 65.000 casi erano stati identificati nell'ambito scolastico su 360.000 casi nello stesso periodo quindi una percentuale del 18% che non è poco 18% di casi rilevati in quel periodo 14 settembre 30 ottobre nelle mura scolastiche ovviamente poi in tutti i modelli predittivi che vi dicevo all'inizio io ho sempre considerato che l'impatto grosso non era il contagio all'interno delle mura scolastiche ma quello che derivava poi in secondo diciamo al secondo livello nelle mura familiari ed è per questo che io consideravo sempre un intervallo di almeno 14 giorni noi sappiamo che la comparsa dei sintomi più l'attività di tamponaggio eccetera richiede 7 giorni 8 giorni questi 14 giorni diventavano effettivi perché il contagio viene portato nelle mura familiari e poi porta all'esplosione vera e propria delle curve quindi anche i dati che sono stati rilasciati dal MIUR hanno una certa valenza per dire che il contagio è nelle scuole è driver poi della crescita delle curve esponenziali abbiamo fatto un'analisi di correlazione su regione Lombardia che dimostra che le province che hanno avuto un forte numero di casi nell'ambito scolastico sono quelle che poi dopo hanno avuto un più alto numero di casi penso per esempio in regione Lombardia Varese che è stata in questa seconda ondata la provincia più colpita Varese rispetto alle altre province di regione Lombardia è quella che ha avuto un'incidenza più alta all'inizio a livello scolastico e poi si è propagato nel tempo a livello di contagio su tutta la provincia quindi ci sono diversi elementi diversi fattori che ci portano a concludere che la scuola non è un ambiente sicuro per definizione come invece molti scienziati italiani hanno voluto sostenere fortemente in questi mesi ma io dico che lo si deve rendere sicuro perché per tutelare i nostri ragazzi per tutelare gli insegnanti e per tutelare gli operatori che lavorano nel contesto scolastico poi sempre nella nostra pagina e concludo per dire meglio che curare noi abbiamo anche ospitato delle analisi dettagliate di Alessandro Ferretti quindi probabilmente è giusto passare la parola a lui anche per tutte le analisi matematiche che ha portato avanti statistico-matematiche che ha portato avanti sul tema scuola quindi io ho concluso ho fatto giusto una panoramica poi a voi grazie a tutti